Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno del Gela. 3-0 al Pomigliano e i giolesi che scavalcano in classifica i campani, centrando così la zona play-off nel girone I del torneo di Serie D. Un 2017 che inizia con il botto per la formazione bianca-azzurra che rifila tre reti al Pomigliano con Montalbano. Bonafini e Nassi, gli ultimi due entrati nel secondo tempo, è in grado di illuminare con la loro classe la partita. L'avvio è tutto di marca giolese con i campani che pensano a tenere a bada la squadra di casa. Alla tredicesimo la prima vera occasione per il Gela con il colpo di testa di Campanaro che da buona posizione sul secondo palo prova di testa di infilare la retroguardia degli ospiti ma trova sulla sua strada un attento portiere al colino. Al ventiduesimo grande apertura di Kosovan per Chidichimo che per un non nulla non si porta tu per tu con l'estremo difensore campano. Pomigliano comunque attento e ben messo in campo che controlla con autorità le folate offensive dei giolesi. Le occasioni migliori per i padroni di casa arrivano sui calci piazzati. Al venticinquesimo punizione velenosa di Candiano in mezzo all'area di rigore con Montalbano che in tuffo manca la deviazione vincente per una questione di centimetri. Le occasioni per gli ospiti arrivano con il contagocce. Al trentaduesimo Gela vicinissimo al gol con Candiano che dentro l'area di rigore avversaria serve Montalbano invece di calciare direttamente in porta. Azione sciupata ma da lì a poco il Gela troverà comunque la rete del vantaggio. Al quarantunesimo infatti arriva la doccia fredda per i campani con il gol dell'1-0 firmato da Montalbano che sul filo del fuorigioco la mette dentro raccogliendo il tiro di Candiano da fuori aria non trattenuto da Alcolino. Si va al riposo con il Gela in vantaggio di una rete a zero e un secondo tempo tutto da vivere. Nella ripresa il Pomigliano prova subito a rimettersi in careggiata, passa appena un minuto e Manfrelotti mette brividi al Gela con un tiro di sinistro da buona posizione che lambisce il palo. Al settimo altra di otto occasione per gli ospiti con la Briola che potrebbe metterla dentro con facilità ma sulla sua strada trova un super saitta a dire di no. Nel momento migliore degli ospiti arriva il gol del raddoppio del Gela a siglarlo e il neo entrato Bonaffini con la complicità della difesa del Pomigliano che battezza fuori un pallone che fuori non è con Bonaffini a punto che realizza il gol beffando la retroguardia campana. 2-0 e gara in salita per gli ospiti che poco dopo rimangono pure in dieci per l'espulsione di Moracci. La rete del 3-0 la mette dentro Nassi con facilità al 38esimo con la squadra ospite oramai alle corde e con la testa già al viaggio di ritorno.